L'Orlandina Basket riparte e lo fa con lo stesso entusiasmo e passione di sempre. Il club, guidato da Enzo Sindoni, è pronto ad affrontare il campionato di Serie B, anche se rimane ancora qualche lieve speranza di ripescaggio. Si saprà domani con certezza, ma intanto oggi sono arrivate le importanti conferme del capo allenatore David Sussi e del capitano Matteo Laganà. Questa mattina inoltre è stato siglato l'accordo più importante. Infodrive sarà il main sponsor dei bianco-azzurri anche per la prossima stagione. Una eccellenza economica del territorio che investe nella più bella realtà sportiva. Come dice Gianluca Basile nel nostro spot di ripartenza, l'amore non ha categoria. Non abbiamo mai avuto dubbi sul fatto che si dovesse continuare. Abbiamo lavorato un'estate per riuscire a capire come, con quali forze, ma soprattutto con quale spirito. E lo spirito è quello dei nostri valori di sempre. Senso di appartenenza, orgoglio e voglia di ispirare. Ispirare alla competizione sana, al fare gruppo e al credere nel proprio lavoro e nella possibilità di raggiungere l'impossibile. L'Orlandina ha scritto la storia del basket in Sicilia e in Italia e questo è ciò che è stato. L'Orlandina è retrocessa dopo un campionato al di sotto delle aspettative. Questo è il nostro oggi. L'Orlandina riparte. Questo è il nostro domani. Quindi valori di appartenenza, come dicevo, ma anche la consapevolezza di essere in grado di poter scalare nella passione, nel cuore dei tifosi, quelle posizioni che per tante ragioni, le nostre responsabilità, il Covid, l'allontanamento dalla vita sociale che ha un po' disgregato quel sentimento che ci faceva entrare al palazzetto con la gioia di entrarci, ecco questa è la nostra voglia di ricostruire. Ma la base sulla quale tutto questo riparte, il grande entusiasmo, la grande voglia di InfoDrive, il nostro sponsor, sembrerebbe una cosa normale, una società che parla bene di chi sponsorizzando sostiene economicamente la società. Ma non è così, io non lo dico per questo. Lo dico perché chi è InfoDrive, e mi riferisco a Franco Costanza, alla sua famiglia, al suo staff, è stato il primo a chiedermi di andare oltre il difficile, il brutto momento della sconfitta e ci ha dato l'energia e lo slancio per ripartire. Devo anche dire che la sua benzina è messa su un fuoco che dentro di me arde da tanti anni, che è quella della passione e dell'amore per il basket, per Capodorlando e per la Sicilia. E quindi con questa bella miscela esplosiva contiamo di detonare con ottimi risultati sportivi. Noi siamo convinti che quest'anno riusciremo a rimettere le cose a posto. L'anno scorso purtroppo non siamo stati fortunati, ma con un po' di buona volontà e un pizzico di fortuna in più, quest'anno sicuramente faremo bene. Noi è stata una scommessa l'anno scorso, diciamo che potrebbe andare meglio, e noi non finiamo un percorso se non vinciamo, quindi vinceremo.